freghete in mente far fare delle cose all'assistente di amazon è abbastanza semplice no? tipo alexa luce tavolo o ancora alexa luce salotto oppure se vogliamo stupire con effetti speciali alexa albero verde o ancora alexa albero bianco alexa regali alexa quadro voi sapete che alexa parla anche l'abruzzese? guarda alexa sai parlare abruzzese? freghete in mente sa c'è parlare buone l'abruzzese vuol capè se sei in auto e qualcuno ti taglia la strada tu cosa dici? gule a mamet come gli si piatta la patente ghelli punte de xan cosa mangi? sagne e faciule rostelle pallotte cace e ove lutinballe e pedigeri mi facce una tazza di genziane fatte alla case esclamazione abruzzese ope la miel come dici non preoccuparti? sta parlate quanta si fregna alexa ciao natale alexa spegni taverna alexa spegni taverna